Infinite online. Perfetto. Campagna. 8 dicembre. Multiplayer. Campo addestramento. Proviamo a fare questo. Grazie a tutti. In attesa altri giocatori. Ma non è il campo di addestramento. Bot. Ciao ragazzi. In corso. Mi dice. Forza rapida dai. Visto che non parte l'altra. Caricamento altri giocatori. Via. Allora le prime partite Farò schifo Dobbiamo vedere tutte le volte Questa roba Ok Ah è così Ok 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 due da dietro bella lì ok 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 graficamente molto bello vi da un po' quella sensazione di sovrascudo in arrivo sovrascudo disponibile il sovrascudo è mio ok ma io non ho capito se sta partita è contro i bot perché sono tutti 343 loro schidione in arrivo schidione disponibile i versagli sono là bravo bravo sovrascudo in arrivo sovrascudo disponibile no dai un'azione della madonna pezzo perché mi sono buttato la bomba addosso la bomba non perdona sembra un po' troppo intelligente per essere un bot però perché saltella la madonna cosa ha fatto si mi piace vi devo dire la verità adesso io le mappe non so quante sono 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 molto arena oggetti potenziati in consegna pazzarola sono vicini sono sotto attacco come si riesce a fare il giro da dietro raga prossimo alla vittoria vai bello veloce cambiare vai sei morto dai volevo ammazzarlo io l'ultimo bella lì squadra vincente raga i gol deroghi di porca sale pochino 7-7 paro 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 e 4-4a assiste qui assiste è finito non sei serio bella ragazzi allora 8 persone quindi 4-4 caricamento a mappa altri giocatori penso che starà cercando e l'altro che sono di più di più di più poi di più allora ok eccolo qua ok bello no non è morto nessuno bb è un puttana oh cazzo sei morto? non sei morto? jungle beat non è morto quella mia bomba? interessante la tua squadra sta ottenendo punti copriti le spalle un altro caduto abbiamo conquistato Anna la roccaforte Charlie è persa dobbiamo fare così mi dobbiamo fare raga cazzo no è molto frenetico eh oh ma le bombe a voi non fanno un cazzo? eh? eh non capire il nemico ha conquistato Alfa la squadra avversaria sta ottenendo punti mimetizzazione attiva in arrivo eh spara cazzo ho tirato anche una cartella un face la tua squadra la tua squadra sta ottenendo punti il nemico ha conquistato bravo il nemico ha conquistato Alfa la squadra avversaria la squadra avversaria sta ottenendo punti un altro caduto sono sotto attacco la tua squadra sta ottenendo punti ok cazzo cazzo dagli un'alegnata in faccia dobbiamo dargli un'alegnata così ok e vai marchito vediamo se riescono a riprendersela lancio una granata ok ok la squadra avversaria sta ottenendo punti la tua squadra sta ottenendo punti mimetizzazione attiva in arrivo mimetizzazione attiva disponibile la roccaforte Alfa è persa vabbè la roccaforte bravo è nostra la roccaforte bravo è persa la squadra avversaria sta ottenendo punti la squadra vediamo va perché qua cazzarola parali che è morto cazzarola cazzarola anche io vi abbiamo perso un compagno di squadra abbiamo conquistato bravo la tua squadra sta ottenendo punti la roccaforte troicux il nemico ha conquistato Charlie la squadra avversaria sta ottenendo punti piuttosto che da una bomba mi spari piuttosto che da una bomba mi devi sparare il nemico ha rotto un po' il cazzo eh è nostra la tua squadra sta ottenendo punti omicidio da manuale mimetizzazione attiva in arrivo la roccaforte Alfa è persa la squadra avversaria sta ottenendo punti mimetizzazione attiva disponibile la tua squadra sta ottenendo punti la roccaforte bravo è persa la squadra avversaria sta ottenendo punti il nemico ha conquistato Charlie abbiamo conquistato Alfa nell'angolino lo stronzo ha chiusato la pistola abbiamo perso un compagno di squadra e perché se ne abbiamo perso un compagno perché chiaramente escono escono da noi bene eh ah bello questo qua cazzarola chiaramente compagno di squadra lo perdiamo noi giusto? 3 contro 4 grande gioco sono grandissimi eh questi quelle granate non... secondo me hanno degli scudi extra la roccaforte bravo è persa la roccaforte bravo è persa mimetizzazione attiva in arrivo mimetizzazione attiva disponibile nooo che peccato è di brutto anche è di brutto anche è di brutto è di brutto ecco ecco Grazie a tutti. Allora, X, avvia matchmaking. Ah ok, senza uscire, ci sta. La fammi vedere un secondo. Ma scontriamo un secondo raga, eh? Ci sta. Ci sta. Allora. 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 Sì, un pelino ci mette a cercare, ma credo che sia anche perché essendo uscito adesso ci sarà un botto di gente che ci gioca. Allora, ok. Allora. 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 Accumuli quante più uccisioni possibile per ottenere la vittoria. bella sta casetta. Ste casette belle, mi piacciono. Un bel su e giù, eh? Dove cazzo sono? Porca. Allora, non può. Dove è andato adesso? Ok, drums wins. La prima grande sfida. No, dai, stronzo. No, dai, stronzo. Cazzo, quel cazzo c'è andato? Cazzo. Granata all'uomo. Carbonizzatore in arrivo. Un po' di danni. Un po' di danni. Troppo distante. Non ce la faccio. Allora, fino là. Da dove mi hanno sparato? Excuse me. Eh? Ah, con quelle robe lì. Con tipo granate. Eccolo, eccolo. Spavaldi, eh? Molto spavaldi, ragazzi. Oggetti potenziati in arrivo. E' scappato. E' scappato. Gli oggetti potenziati sono arrivati. Cazzo. Dai, cazzo. Oh. Bussardo. Porca loca. E' che l'abbiamo così presi? No, sicuro sono qua. Oh. Oh, cazzo. Tutte e due insieme. Ma dai. Dai. Nemico a metà dell'opera. Cazzarola. Cosa è successo? No, cosa è successo? Perché è uscito? Ma dai. Ultima. Ultima partita rapida e non so perché è uscito. Che bella, amore. è lunghissima. È lunghissima. Allora. 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 la squadra cobra ok chi ha il teschio? ok ok dai cazzo ma come ha fatto dalle mie gna... vabbè sono qua in due teschio caduto il nemico ha il teschio a parte la prima un alleato ha ucciso il portatore se lo tenga stretto e vinceremo ricarico granate a spuntoni acquisiti cazzo gli ho dato della testa gli ho dato dai raga dai raga dimetizzazione attiva disponibile nemico a metà dell'opera come cazzo ha fatto a non morire beccano tutti i più mega forti di là beccano tutte le squadre del merda guarda va che cosa c'è questo qua ma va già finita a due turni va almeno si può provare a rimettere in piede la partita porco schifo ah si può lanciare il teschio ma dai ah è peggio che andare di notte questo ah il cazzone di uno madonna sto gioco è quello che bisogna saltellare andare a destra a sinistra minchia quanto lo odio giochi così ah va va come saltellano va va anche qua lo vedi saltellano un alleato ha ucciso il portatore dai vai raga porca loga proprio in bocca gli sono andato vabbè gli ho fatto fare 25 io eh tanto per eh dai vabbè ma davanti in die questa è proprio un'arena è una modalità un po' di merda non è che mi piace tanto va che aspetta uno stile efficiente va si dai che arriva anche l'altro non è giusto oh oh ma mario no ce l'ho fatta basta la mia partita è fondamentale che vabbè ma non c'è problema mi racconti orca miser beh se è noiosa me la racconto abbiamo perso il possesso sì vai teschio e magari niger si va con loro dai però è perché faceva il bulo c'era tanta gente squadra nemica vicino alla vittoria mimetizzazione attiva disponibile scommetto che non se l'aspettavo teschio caduto guarda guarda stronzo no cazzarolina dai raga che è finita sta partitozza bruttozza si tieniti il teschio e infilatelo su per il pip dai vincila sta partita allora prima impressione molto bello grafica molto bella le partite partono abbastanza facilmente abbastanza velocemente ci sta è un'arena sempre quindi è un massacro non ho provato le altre modalità quindi sto facendo solo quelle veloci quindi per adesso si sale pochissimo veramente pochissimo poco alla volta ed è interessante è interessante e poi io voglio voglio la campagna una campagna fichissima di Halo sulla serie 6 ok ragazzi 39 minuti che siamo dietro un po' di online dopo porterò i video anche su youtube quindi tranquilli e da Marco Drums game channel è tutto seguite il canale youtube facebook twitter instagram e tiktok attivate la campanellina di youtube e twitch così siete sempre in call position sulle mie live e assolutamente mettete un mi piace e commentate portateci sul canale ciao amici grazie a tutti i